In quel tempo Gesù disse ai giudei, il padre mio agisce anche ora e anche io agisco. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro, in verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non so che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e creda a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Come infatti il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepoltri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto. Il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Cominciamo con i Vangeli difficili, quelli di Giovanni. I prossimi giorni feriali saremo sommersi dalla teologia di Giovanni. Non arrivano a caso questi Vangeli e neppure per farci un dispetto, visto che sono spigolosi non solo a chi li ascolta, ma e soprattutto a chi li deve spiegare. Di fondo questi Vangeli intendono presentare i presupposti teologici per cui Gesù verrà condannato e ucciso. Sappiamo infatti che Gesù è condannato per il peccato della bestemmia. La bestemmia sta nel fatto che lui, che è uomo, si è detto essere Dio. Ecco, Giovanni intende confermare questi capi di accusa. Infatti Gesù, pur bestemmiando per la legge ebraica, ha detto comunque il vero. Lui era Dio. Oggi proviamo a inquadrare una prima riflessione di Gesù, che certamente ha fatto sobbalzare i giudei di turno. Il tema è la sua identificazione con Dio Padre. Gesù sappiamo, ha già parlato in precedenza nei vari Vangeli, di un Padre. Ha invitato i Suoi discepoli a chiamare Dio Padre. E ha insegnato loro quella splendida preghiera che è il Padre nostro. Ma oggi nel Vangelo Gesù dice qualcosa di più, un qualcosa che è il valore aggiunto della nostra spiritualità cristiana. Fino allora, bene o male, anche i giudei consideravano Dio come un Padre. Si parlava di Dio Padre di Abramo o di Mosè. Nell'Antico Testamento diversi profetti hanno identificato Dio come un Padre che correggia i Suoi figli, ma anche che li tratta con misericordia e tenerezza. Ma quando tutto l'Antico Testamento parla di un Dio Padre, lo fa semplicemente in maniera rappresentativa. Nessuno ancora poteva immaginare che quel Padre avesse generato un figlio, cioè Gesù Cristo. Ogni domenica nel Credo diciamo che Gesù è generato, e per non sbagliare si aggiunge non creato, della stessa sostanza del Padre. Cioè Gesù è generato come ciascuno di voi è generato da un padre e da una madre. Cioè voi non siete altro dai vostri genitori, li appartenete. Ecco perché i giudei subbalzano e non possiamo neppure dargli torto. Chi è questo pazzo che viene a dirci certe cose? Chi è questo pazzo che viene a dirci certe cose? Chi è questo pazzo che viene a dirci certe cose? Grazie.